Cari amici, buongiorno. Oggi volevo presentarvi il mio nuovo libro Rinascimento, la danza delle idee. Come vedete in copertina c'è una bellissima opera dell'amico Mauro Rea che ha interpretato l'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci. Un'opera bellissima che come vedete al posto dell'uomo vitruviano c'è un uomo e una donna insieme con le scritture di tipo futurista che formano la parola rinascimento e il tutto su carta di un noto operatore con il codice a barre proprio quasi a indicare la critica dell'uomo consumistico. Il libro è il frutto di 30 anni di lavoro, è sia un compendio di storia dell'arte sia un libro di critica d'arte, quindi ottimo materiale di studio sia per gli appassionati d'arte che per gli studenti di scuole superiori e universitari. Il libro nella prima parte parla ovviamente della storia del rinascimento con la centralità dell'uomo e con l'idea forte centrale che appunto fu una danza delle idee in quanto a partire dalle accademie dei medici in cui si incontravano poeti, filosofi, artisti e si contaminavano tra di loro e sono venute fuori storie interessantissime come quello di Pietro Laretino con Tiziano oppure di Michelangelo con Vittoria Colonna e quindi questa idea di contaminazione delle arti è un po' l'idea centrale del libro. Però sono particolarmente orgoglioso di questo libro per due o tre capitoli in particolare, cioè quello dedicato alle donne nel futurismo e quello dedicato a una serie di critiche specifiche su singoli quadri o temi del rinascimento, quali appunto l'uomo vitruviano o la città ideale oppure il tema della pietà non solo di Michelangelo e così via. Infine il libro è corredato di un bellissimo glossario di termini rinascimentali che è veramente un utile strumento di studio e di lavoro. Vi ringrazio, vi invito a leggerlo, il libro è un libro di 140 pagine con una bella copertina cartonata e diverse illustrazioni al proprio interno. Buona giornata e tanti auguri e buon Natale a tutti!